Ex fea tutto fermo. L'ultima volta in cui si è parlato del progetto del polo museale per valorizzare e recuperare un sito di pregio che si trova lungo la rivera di Pescara è stato nel febbraio 2021 quando la commissione turismo del comune si è occupata della questione. Da allora nulla è cambiato e la bonifica dei circa 4.500 metri quadri di proprietà della regione non è andata più avanti. Per questo motivo consiglieri regionali e comunali hanno convocato una conferenza stampa congiunta per lanciare un grido d'allarme e chiedere che anche il sindaco Masci faccia sentire la sua voce a ricostruire la vicenda e le consigliere regionale Antonio Blasioli. Consigliere Blasioli perché è tutto fermo? Dovremmo chiedere alla giunta regionale Marsilio che ieri rispondendo a una nostra interpellanza a proposito dell'ex fea ci dice stiamo aspettando che la provincia individui il soggetto inquinatore. In realtà l'ex fea è un luogo privilegiato della riviera di Pescara a due passi dal mare su cui il centro-sinistra regionale prima si era impegnato con un bando per la valorizzazione turistica nonostante che la società che ha vinto il 3 marzo del 2021 ha comunicato alla regione che ci sono fondi di inquinamento siamo a 17 mesi da quella data e nulla è stato fatto e da quello che ci hanno risposto ieri altro tempo ci vorrà. Che tipo di inquinamento insiste in quell'area e credo che anche debba esserci l'intervento se già non c'è stato dell'Arta? L'Arta è già intervenuta sono state ritrovate serbatoi per gli idrocarburi e cloruro di vinile che naturalmente è legato proprio agli idrocarburi quindi è legato alla vecchia ferrovia Penne Pescara che poi è transitata in GTM in Tua e quindi in regione Abruzzo tra l'altro nella conferenza di servizi l'Arta ha fatto evidenziare come non ci sono fondi fonti inquinanti esterne quindi significa che deriva da quello e la regione Abruzzo anche per questo dovrebbe essere il naturale soggetto che provvede alla bonifica. Blasioli sono passati 17 mesi lei ha ricordato quanti ne passeranno ancora secondo lei? Non solo 17 mesi della scoperta dell'inquinamento ma la società che ha vinto che si chiama FEA SRL dovrebbe completare nei quattro anni il progetto. Stiamo a quattro anni di distanza in realtà FEA non può andare avanti FEA tra l'altro è soggetto non inquinante che ha già versato 200 mila euro per la messa in sicurezza. Grazie a tutti.